Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Greta Rossetti e Sergio Dottavi sembrano essere più innamorati che mai. La coppia, nata sotto i riflettori del grande fratello, non smette di dedicarsi dolci pensieri e di condividere momenti romantici. Recentemente, l'imprenditore laziale ha pubblicato delle storie su Instagram che testimoniano l'amore tra lui e Greta. I due hanno partecipato a un evento a Capri e, al termine della serata, hanno fatto una passeggiata al chiaro di luna. Durante la passeghietta, Greta indossava un elegante vestito e suro con decorazioni viance. Sergio l'ha ripresa mentre sfilava per lui e, cantando, le ha dedicato un tenero come «sei bella amore mio». La risposta di Greta, con un sorriso innamorato, è stata catturata in un video che ha fatto il giro del web. Questa coppia, nata dopo le delusioni amorose passate, sembra aver trovato la formula per un amore duraturo e sincero. Greta, che in passato aveva espresso il desiderio di mantenere più privacy nelle sue relazioni, sembra finalmente aver trovato un equilibrio con Sergio. Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti. Grazie mille per essere stati con noi oggi. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati con i nostri contenuti. Attivate anche la campanella delle notifiche per non perdervi neanche un video. E se siete interessati a ulteriori contenuti simili, date un'occhiata a questi due video.